Un saluto per i trovati come state, mi raccomando, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, un grazie ai vecchi, un benvenuto ai nuovi, lasciate un bel like e commentate numerosi con il vostro punto di vista. In questa zona all'iscrizione un benvenuto a chi si iscriverà in questo video, in questa giornata particolare, giornata quasi storica perché non facciamo un quarto di finale da una vita, 12 aprile. Ha parlato intanto all'equip Mr. Pioli, ha detto che stiamo percorrendo un cammino intrapreso tre anni fa, sono fiero di vedere crescere questa squadra ma la storia del Milan è giocare in Champions, siamo felici ma non dobbiamo fermarci qui. La svolta a gennaio 2020 con Ibra, Kier e Salemakers siamo migliorati dal punto di vista tecnico e di carattere. Ibra non è un giocatore normale ma un campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro. E' stato un sostegno enorme anche per lo staff, ci parlai con Giroud un paio di volte in videoconferenza prima che firmasse, sapevo che avremmo lavorato bene insieme, un grande giocatore di squadra, generoso, sempre positivo. Theo ancora margini di miglioramento enorme ma deve convincersene, quindi può migliorare. Megnan lo conoscevamo prima di affrontare un Europa League, quando con il Lille venne a vincere da noi per 3-0, si è rivelato anche migliore di quel che pensassi. Meticoloso vuole sempre migliorare, ha uno sfidimento per l'allenatore perché esigente ma anche motivato. Caluno, una grande sorpresa, non ha mai mollato, migliora sempre e non è ancora finita. Insomma via via, varie dichiarazioni con cui introduciamo questo video. Andiamo subito a vedere la probabile formazione. Poi ci sono un paio di questioni molto particolari legate all'extracampo. Innanzitutto la formazione del Milan è quella che ha battuto 4-0 il Napoli ma non dobbiamo pensare a quella gara. Guai, guai, guai. Poi vediamo anche il Napoli, Milan con Megnan, Calabria, Kier, Tomori, Teo, a centrocampo Krunic sul centro-destra, Tonali sul centro-sinistra, Brian Diaz, Ben Nasser, Leao sulla tre quarti, in avanti Giroud. Sperando di poter poi cantare, la voce non c'è più, è colpa di Giroud. Va bene anche un gol di Krunic o magari due meglio ancora. Dall'altra parte il Napoli con Meret, Di Lorenzo, Ramani, Chime e Olivera sulla sinistra, non Mario Rui. Centrocampo Anguissallo, Botka, su cui andrà ad agire Lupem Ben Nasser, Zianlischi, in avanti Lozano, Raspadori e Kvarascheia. Con Raspadori che non è al top non dovrebbe avere 90 minuti nelle gambe e loro eventualmente a quel punto dovrebbero mettere Elmasho a spostare Kvarascheia piuttosto che Lozano. È una formazione che sta stravincendo il campionato, bisogna ricordarlo. Non pensiamo allo 0-4 e cerchiamo appunto di non sottovalutare un avversario che sarà privo comunque del giocatore più forte che è Victor Ossiman, che starà fuori. Tra l'altro su Ossiman, notizia di oggi che riguarda appunto l'indagine, sapete che il suo trasferimento dal Lille a Napoli fu molto chiacchierato. Napoli sotto inchiesta per le plusvalenze, blitz della finanza nella sede della Turris, a Torre del Greco, per acquisire il contratto di Claudio Manzi, uno dei calciatori che rientrava nella trattativa legata all'acquisto di Ossiman. Sono stati appunto i PM De Falco e Simeone a compiere questo atto istruttorio, una vicenda che fa leva sull'ipotesi di falso in bilancio carico dei vertici del club azzurro. Vediamo che cosa porta, non credo che lo Scudetto sia in discussione eventualmente, magari visto che i tempi non sono short, potrebbe stretti, corti, potrebbe essere una penalizzazione per il prossimo anno. Questo lo vedremo, sapete che in questo momento si stanno facendo indagini a tappeto proprio per pulire un po' questo sistema, non c'è il Milan dentro e quindi possiamo stare tutti sereni. Comunque quest'ultimo Rosyman è importante, mi sono legato a questo, al fatto che ci affrontiamo, lo affrontiamo la sua squadra stasera e che lui assente con il discorso appunto della nuova indagine. Dopodiché, allora, un paio di questioni. La prima riguarda De Ketelare e la seconda riguarda Leao. De Ketelare oggi sarà in panchina, a oggi grandissima delusione, purtroppo, pensando ai giocatori che magari possono subentrare e cambiare la partita, non è che ti giri la certezza, c'è De Ketelare, c'è Rebic, c'è Orighi, purtroppo questi tre non hanno dato molto. Paradossalmente potrebbe essere eventualmente Salem Hakers quello che ti porta un po' di brio, un po' di vivacità. Detto questo, vi dicevo di De Ketelare. Abbiamo parlato ieri della notizia clamorosa, per certi versi, di un interessamento del Leeds che vorrebbe portarselo in Premier League il prossimo anno, con apprezzamenti anche recenti di Radrizzani, che è il presidente del club inglese. Ebbene, nelle ultime ore nuove conferme sull'interessamento del Leeds per De Ketelare per l'estate. Ci sarebbe un piano per provare a convincere il Milan a farlo partire, ma pare non essere l'unico club su De Ketelare. Ci sarebbe anche un altro club di Premier League sul giocatore belga, che ricordo in estate sarà a bilancio a 28, quindi significa che un club se lo vuole in estate deve arrivare a 28 milioni di euro, per i club inglesi non è tanto, oppure deve prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a 21, prezzo per cui sarà a bilancio nell'estate successiva, quando dovrebbe essere esercitato il riscatto obbligatorio. Dal Milan al momento tutto tace, rimaniamo all'ultimo aggiornamento per cui Milan vuole confermarlo, però è chiaro che dei soldi della Premier potrebbero davvero ingolosire il Milan e far riflettere. Se si sarà arrivati, non dico la conclusione, ma il sospetto che è stato un acquisto sbagliato anche da parte di Maldini e di Massara, che fin qui a mezzo pubblicano sempre difeso, piolia dei dubbi e credo che anche loro. Quindi potrebbe essere un exit strategy rispetto a quello che abbiamo anticipato ieri, ci sono le ultime ore indiscrezioni ulteriori, conferme ulteriori, dalla stampa inglese, su questa possibilità di una separazione da De Chetelare, che sicuramente sarebbe clamorosa, pensando insomma a quanto lo abbiamo desiderato in tanti, non tutti in estate, io in premis perché ritenevo potesse essere un giocatore in grado di far fare un salto di qualità in termini di gol e di assist al Milan, soprattutto in termini di pericolosità là davanti. Vediamo, poi è vero che non è stato mai impiegato forse nel suo vero ruolo, però ecco registriamo conferme importanti per quanto riguarda appunto la pista inglese di De Chetelare. Parliamo delle novità, poi ovviamente più tardi avremo un altro focus completamente dedicato alla partita, intanto pensiamo anche a dell'altro. Questa mattina nel video Milano Allorispondo ha risposto alle vostre domande, in cui c'era molto mercato, ma non perché non si pensa alla gara di oggi, anzi, anzi, ci stiamo pensando purtroppo tanto e c'è alta tensione. Dopodiché c'è un inghippo leao, inghippo leao per il quale c'è un proliferare indiscrezione, negli ultimi giorni il borsino è verde, più possibilità di arrivare a rinnovo, la questione multa pare si avvicina a una risoluzione, io credo che alla fine ci sarà un pagamento, se verrà effettuato in parte del Lille e in parte del Milan, magari non direttamente, nascosto, indiretto, banusa la firma, piuttosto che acquisizioni del giocatore da Lille che poi paga l'intera multa. Massaro ha detto, vediamo, comunque entro la fine del campionato bisogna risolvere questa situazione, quindi entro un mese e mezzo bisogna, dentro o fuori, sapere che cosa si fa da grande. Ebbene, dal Portogallo c'è, mentre a Bola che è un po' il megafono di Mendes fa sapere che lo pagherà Lille questa multa, o gioco Sporting, ma l'azione Sporting, diciamo così, spesso fa filtrare questioni molto vicine allo Sporting Lisbona, che è il club che ha visto privarsi di Leao a costo zero e che poi ha fatto ovviamente il ricorso. Ebbene, secondo i colleghi della stampa portoghese, in questo caso, ripeto, gioco, lo Sporting non vuole 20 milioni di euro bonus, scusate, interessi compresi, ma vuole una cifra che possa arrivare a quella che era la clausola recissoria in quel momento di Rafa Leao, cioè 45 milioni di euro. Questa è la tesi difensiva dello Sporting, che, secondo appunto gioco, chiederà alla FIFA di condannare Lille a questo pagamento. Il Lille, pare il Lille, non Leao, però è chiaro che se non si accontentano di 20, ne chiedono 45, allora si riapre nuovamente un nuovo capitolo e questo rischia di complicare una vicenda che è già piuttosto difficoltosa, come ha riconosciuto anche Ricky Massaro la scorsa settimana. Da 20 a 45, perché la clausola era 45, quel punto la clausola però riguarda, secondo i colleghi Lille, boh, non lo so, vediamo che qui è un fatto particolare che rischia di allungare i tempi, di andare in là ulteriormente e di rendere tutto sempre molto difficoltoso. Ci sono i due procuratori, ma si può andare avanti, Massaro ha detto deve essere di Leao la parola ultima, c'è questo discorso della multa che però è una cosa che manco a farlo apposta si poteva descrivere una telenovela del genere. Ultimo, inghippo, 45 milioni richieste, non più 20, però bisognerà aspettare, si dovrà esprimere la FIFA. Sto pensando, è legittimo? L'hai portato via senza trattare con me? Allora paghi la clausola 45. Dal punto di vista Sporting può essere anche legittimo. Dall'altra parte però si è andato via perché c'erano questioni gravi delle quali doveva essere responsabile comunque lo Sporting. Vediamo come va. Nel frattempo ragazzi vi dovevo aggiornare su queste due questioni. Abbiamo parlato anche della partita. Più tardi ci rivediamo. Vi rimando al video di questa mattina in cui vi parlo anche di Sergei Milinkovic-Savic come sogno di questa primavera. Se ne sta parlando vi spiego come secondo me si potrebbe arrivare. Il discorso è legato a Dechetelare a maggior ragione dopo il video in cui vi ho raccontato in questo caso, in questo momento che c'erano nuovi rumors, nuove conferme che potrebbero portarlo in Inghilterra in estate. scatenatevi con i commenti ma video di partita video di giornata partita spero che ognuno di voi possa mettere un like commentate numerosissimi anche con un bel Forza Milan facciamo esplodere YouTube di Forza Milan e iscrivetevi qui se non avete ancora fatto. Chi non si iscrive ti fa Napoli ragazzi quindi fatevi avanti un grazie ai vecchi un benvenuto ai nuovi che si iscriveranno nel corso di questo video. Mando un abbraccio a tutti. Forza Milan tutti insieme ragazzi che tensione però mamma mia.